Ristrutturato, indipendente e con circa 12.700 metri quadrati di terreno. Ci troviamo a Marano Marchesato, nei prezzi della chiesa della Madonna del Carmine. E proponiamo in vendita un casolare indipendente. Venite con me! Si tratta di un casolare indipendente ristrutturato qualche anno fa, dotato di un giardino di circa 400 metri quadrati ed un terreno di circa 12.700. Internamente è dislocato su due livelli ed è composto al piano terra da un ingresso soggiorno con camino, una cucina ed un bagno. Al primo livello da due camere da letto ed un altro bagno. Completa la proprietà la soffitta, accessibile mediante una botola interna. Questa proprietà è posizionata in contesto tranquillo, ma non isolato, a poche centinaia di metri dalla strada principale. Per maggiori informazioni o per fissare un appuntamento per visitare quest'immobile, prendi contatti con la nostra agenzia immobiliare.